Musica Saluti a tutti, sono Tommaso Caruso dell'Associazione Ladri di Luce, un'associazione fotografica che si occupa di diffondere la cultura fotografica in tutti i suoi aspetti. Quindi ci occupiamo di corsi, mostre e soprattutto anche di socialità in ambito fotografico, quindi in molto senso usiamo la fotografia come volano per fare socialità e crescere, accompagnati da questa nostra passione che ci accompagna che è la fotografia. Potete vedere che qui abbiamo un po' delle nostre opere fotografiche, perché sono delle fotografie che abbiamo scattato per produrre un calendario. Quindi facciamo anche mostre, queste sono le foto della mostra del calendario 2017 e presto ci sarà un altro progetto fotografico. Recentemente abbiamo fatto anche una collettiva, una mostra collettiva sul tema ritratti d'identità. Abbiamo fatto questa mostra che abbiamo esposto al Museo del Presente. Il tema era appunto ritratte d'identità per mettere in evidenza come attraverso la fotografia potevamo cogliere l'identità della persona. Infatti c'erano alcuni mestieri, altri passione che ritraevano l'identità della persona stessa. Andremo a fare altre mostre e poi questa mostra ritratti d'identità è stata presente anche a Corigliano, al Castello, al Festival della Fotografia di Corigliano. Sono state scelte 15 fotografie della mostra collettiva. Facciamo uscite fotografiche in tanti posti della città e quindi speriamo presto di trovarci ospiti di Soveria Mannelli e di anche altri posti molto belli della città. Siamo stati in tanti posti belli perché abbiamo una stupenda regione e con la fotografia speriamo anche di valorizzarla. Grazie. Grazie a tutti.